Musica Ottombrata rossa a Riano La sezione cittadina dei comunisti alieni di Riano ha organizzato una giornata per festeggiare i primi 16 mesi della giunta comunale targata centosinistra in cui i comunisti alieni sono rappresentati con il vice sindaco e il delegato allo sport Nell'arco della giornata si sono svolti due dibattiti nei quali sono stati i percorsi di 16 mesi di giunta e la lotta contro la discarica di Pian dell'Olmo nella quale i comunisti sono stati molto presenti Grande la partecipazione e tanti gli interventi tra cui quello del sindaco di Riano Marimella Ricceri E tutto si è concluso con una cena e una sottoscrizione a premi e tanta musica Possiamo proprio dire che la buona politica ancora esiste Ed è rossa Grazie a tutti